Sì, lo so, ma no, ma questa è sempre la tua, no, 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 fermati, fermati, non me ne frega niente, perché? E che c'entra mio fratello? Ma quello, un coglione come te, non cambia nulla, non cambia nulla, zero, anzi, passamelo un attimo. Si, 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 si. All rights to you. Passam volume. Hi, Danny boy, how are you? Yeah, 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 my daughter sent me everything. Sure, sure, oke, see you tomorrow morning. Allora, a me non me ne frega niente De me, de mi fratello, de mi padre, de la mia famiglia Non me ne frega un cavolo Se mi devi dare i soldi I soldi me li devi dare Non c'è verso No, non No, sei tu che stai tribolando, non io Va bene? No, 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 non è questione No, lascia perdere Lascia perdere Questa cosa li so molto meglio io che te Va bene? Dai Ciao Mi chiamo Ieri Acellari Sono un attore italiano albanese Cioè di origine albanese Ma vivo in Italia da 22 anni Diciamo, le ultime esperienze Il film di Ivano De Matteo Il film di Solima Aqab E altre cose per le televisioni Come Gli ultimi del paradiso O la squadra Allora ho portato un monologo Diciamo inventato da me Siccome quasi tutti i personaggi che io ho fatto sono stranieri Essendo io straniero Cioè per il cast director io sono uno straniero Poi vai ai provini e il regista dice Ammazza parli bene l'italiano E niente Mi ho portato questo mio monologo Fatto su una telefonata In quattro lingue diverse Cominciando con l'italiano Poi parlo con il mio fratello in albanese Con mia figlia in spagnolo E col suo fidanzato in inglese Grazie